La Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha disposto la confisca dei beni per un milione e mezzo di euro a due fratelli di Monte Corvino Rovella, i gemelli Enrico e Sergio Bisogni di 44 anni, ritenuti vicini al clan camoristico Pecoraro Renna, operante negli anni scorsi nella Piana del Sele. A seguito delle indagini anche di natura economico-finanziaria sviluppate dalla sezione operativa della DIA di Salerno, a cui si sono aggiunti gli accertamenti sul territorio, eseguiti dalla Compagnia dei Carabinieri di Battipaglia, è stato possibile disporre la confisca di tre autoveicoli, di un complesso balneare a Marina di Camerota e di una ditta individuale. Ai due fratelli è stata disposta dal Tribunale di Salerno la misura della sorveglianza speciale. Secondo quanto accertato dalla Direzione Investigativa Antimafia, i proventi delle lecite attività dei fratelli Bisogni sarebbero stati reinvestiti attraverso lo schermo dei familiari in diverse operazioni commerciali e immobiliari, i cui profitti sono stati ora sottoposti a confisca definitiva.